Addio debiti riparti pulito e la rubrica curata dal da Gianmario Bertolo presidente di legge 3.it al quale diamo il buongiorno salve presidente buongiorno a voi grazie per l'ennesimo invito grazie a lei perché oggi parliamo di una tematica davvero importantissima quella dell'indebitamento con il fisco in particolare con Equitalia sono tante le persone che purtroppo vivono una situazione di difficoltà dal punto di vista finanziario un dato davvero su cui riflettere che da un italiano su tre indebitato sul fisco molti di loro si sono visti recapitare a casa le cosiddette cartelle pazze cioè appunto le cartelle esattoriali che contengono delle somme talvolta anche insomma spropositate che a volte non sono neanche esatte allora noi di questo parliamo oggi come fare come liberarsi da questi debiti perché non ci sono delle scorciatoie oppure degli stratagemmi ma c'è una strada molto precisa percorribile che è quella della legge 3 sì in questi mesi in effetti stanno arrivando a praticamente tutti gli italiani eh tutto l'arretrato di indebitamento che con il covid era stato sospeso e quello che quello che riguarda l'agenzia delle entrate riscossioni quella che noi continuiamo a chiamare Equitalia perché così ci ricordiamo meglio di chi stiamo parlando sono oltre mille cento miliardi debiti che gli italiani hanno con lo stato e io comincerei qui a farmi una domanda com'è possibile che ci sia un monte debiti così elevato. Sento parlare in questi giorni di rotamazione, ter, quater, di saldo e stralcio, di soluzioni di pace fiscale e quelle che sono state messe in atto finora sono state un fallimento perché non hanno avuto la percentuale di adesione eh che lo stato stesso sperava non sento parlare nessuno di una legge che esiste già da dieci anni la legge 3 del 2012 e che permette riformata peraltro in questi giorni dal nuovo codice della crisi d'impresa che permette a chi ha delle cartelle esattoriali di poter eh fare un confronto appunto ehm con eh i debiti che ha e i debiti che può effettivamente pagare e stracciare anche percentuali molto elevate del debito presente. Ecco presidente ci sono anche dei casi eclatanti di persone che erano state davvero erano davvero sull'ordo della disperazione eh dopo aver ricevuto delle cartelle esattoriali esagerate e persone anche sull'orlo del suicidio ecco un dato importantissimo abbiamo visto purtroppo negli anni tante persone togliersi la vita proprio per il problema del fisco eh sono degli esempi che portiamo che possiamo portare appunto eh come modello per dire alle persone ci sono eh tanti metodi c'è una strategia rivolgersi ai professionisti sempre quindi non dare mai niente per perduto. Certamente un esempio di una di un risultato al Tribunale di Milano di qualche mese fa una signora si trovava un debito con eh l'agenzia delle entrate e riscossioni di oltre 430 mila euro peraltro senza colpe perché erano eh attività fatte dal marito che aveva intestato a lei che poi il marito se n'era andato. Quindi lei con un stipendio da infermiera non avrebbe mai potuto far fronte a un debito del genere per quante rottamazioni o salvi stracci si potessero fare. Con la legge tre il Tribunale di Milano ha accettato il nostro piano e la signora pagherà per i prossimi quattro anni centocinquanta euro al mese quindi una cifra irrisoria e alla fine di questo periodo eh i quattrocentomila euro che resteranno eh come debito saranno resi inesigibili quindi la signora sarà liberata per sempre da quel peso insostenibile e casi così ce ne sono ormai in quasi tutti i tribunali eh d'Italia perché ormai eh molte persone si affidano a chi riesce a risolvere questo tipo di situazioni purtroppo manca la comunicazione istituzionale a parte poche realtà come ad esempio Canale 21 eh dal resto del del mondo sia dell'informazione sia della politica c'è un assordante silenzio. Noi la ringraziamo perché questo è uno spazio davvero importante sono tanti coloro che affrontano purtroppo problemi finanziari ma il messaggio che noi lanciamo da mesi ormai grazie a questo spazio grazie ai suoi approfondimenti che c'è sempre una via d'uscita basta chiaramente rivolgersi ai professionisti del settore come lei grazie Gian Mario Bertolo presidente di legge tre punto it le auguriamo una buona giornata grazie a voi e buona settimana a tutti anche agli ascoltatori salve grazie salve